Il movimento della pallavolo padovana si è mosso ancora una volta in forze, questa volta in direzione di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, cornice d'eccezione della conclusione del campionato promozionale Under 12 Memorial Stefano Varotto. Oltre 1600 persone, tra giocatori, allenatori e accompagnatori, si sono ritrovati per giocare le ultime due giornate sul prato di Villa Farsetti, in un clima di grande festa. Sì, siamo qua in questa splendida Villa Farsetti su un prato verde, dove ci sono 52 squadre che tra la mattina e il pomeriggio finiranno il loro campionato Under 12. Siamo molto contenti sia del tempo che della partecipazione e ringraziamo fin da ora il gruppo Salesi per l'organizzazione e l'ospitalità che ci hanno dato. Questo è un momento in cui vince il gioco. La giornata è stata organizzata dalla FIPAD di Padova, grazie alla collaborazione del Comune di Santa Maria di Sala e dell'Unione Gruppi Salesi, di cui fanno parte il GS Sant'Angelo e Volley Salese.